Ripopolare le montagne abruzziesi è questo l'obiettivo della legge 32 del 2021 che assegna bonus per i nuovi residenti e i neogenitori. Dal 2016 al 2021 l'Abruzzo ha perso quasi il 3% degli abitanti, il doppio rispetto alla media nazionale. Il comune che ha perso più abitanti è Villa Santa Lucia che ha perso oltre il 26% dei residenti. La regione ha individuato 173 comuni montani con meno di 3.000 anime dove il tasso di spopolamento nei 5 anni considerati supera l'8%. 24 dei comuni sono nella provincia di Teramo, altrettanti in quella di Pescara, 74 nell'Aquilano e 55 nel Chitino. Il fondo sarà continuamente rifinanziato. Spero che i soldi non bastino, ha aggiunto il governatore. Abbiamo misurato i dati e visto come l'Abruzzo ha un indice di calo demografico doppio rispetto a quello italiano e nelle aree interne questo indice è addirittura quadruplo. I comuni che abbiamo identificato con questa legge, è entrata in vigore il giorno di Natale, è un indice che supera l'8% di spopolamento. Quindi è un indice altissimo, elevatissimo, che sta di fatto spegnendo intere comunità, tanti borghi e noi cerchiamo con questa legge che concede aiuti e incentivi economici e contributi economici diretti ai cittadini che fanno nascere figli in questi comuni, oppure vi si trasferiscono con la residenza e vi aprono delle attività, di poter avere un sostegno forte e reale per poter vivere in quelle realtà e poter ripopolare con serenità i nostri borghi delle aree interne. Nel dettaglio le famiglie potranno ricevere 2.400 euro per il primo figlio e 2.300 per gli altri. Bonus che sale a 2.500 in caso di genitori single o bambino con grave disabilità. 2.500 euro anche per chi sposta alla propria residenza per almeno 5 anni. Somma che raddoppia in caso venga aperta un'attività imprenditoriale.